Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di loro due. Nello specifico andremo a vedere le novità di WatchOS 10 rispetto a WatchOS 9. Che abbiamo qua? Abbiamo un Apple Watch serie 8 da 45 mm e un Apple Watch SE versione 2022 da 44 mm. Prima di iniziare il video devo ringraziare Isabella per avermi dato questo esemplare di Apple Watch. Nel mio canale ho pubblicato tanti video su il mio Apple Watch serie 8, anche un 24 ore con lui. Vi dico la verità, volevo portarvi anche un 24 ore con Apple Watch SE, anche un confronto. Il confronto lo facciamo velocissimo adesso. Due esemplari che sono, vi dico la verità, molto molto simili. In particolare con Apple Watch serie 8 abbiamo in più l'ossigenazione del sangue, il sensore temperatura, che è una novità di Apple Watch serie 8 rispetto al 7. E abbiamo anche la possibilità di fare un ECG. Abbiamo anche un display leggermente più infinity, più grande e diverse misure. Da questa parte abbiamo 41 e 45 mm, da questa parte 40 e 44 mm. Le differenze finiscono qua? Sì. Quindi valutate un pochino voi quale fa di più al caso vostro. Ovviamente oggi esiste già un Apple Watch SE versione 2023 e un Apple Watch serie 9. Poi abbiamo gli Ultra e Ultra 2. Se avete bisogno di avere un orologio che vi permetta di fare l'ECG, prendete il serie 8. Avete bisogno di controllare la vostra ossigenazione del sangue, prendete il serie 8. E anche di controllare la temperatura basale, scegliete magari il serie 8. Allora, temperatura basale che serve più che altro per andare a tenere d'occhio il ciclo mestruale in un modo un pochino, un pochino abbastanza più preciso. Io, per esempio, questa funzionalità la andrei già a scartare. ECG io l'avrò usato due o tre volte nel giro di un anno e l'ossigenazione del sangue, sì, va bene, non ci faccio però mai caso. Io sono un malato, scelgo il serie 8, è anche un pochino più grande, ma la differenza, ragazzi, non è tanta come vedete. L'unica cosa, ha un display che mi piace un pochino di più perché è un pochino più largo, ma vi dico, Apple Watch SE può essere la scelta effettivamente giusta. Anche perché, qua andiamo a parlare del nuovo sistema operativo, sono entrambi aggiornabili a WatchOS 10. E allora, fatto il confronto velocissimo tra i due, andiamo a vedere quello che c'è da dire e le differenze che ci sono tra WatchOS 10 e WatchOS 9, che volutamente ho chiesto di non aggiornare a WatchOS 10 proprio per portarvi il confronto. Ma attenzione perché anche Apple Watch SE è aggiornabile. Ovviamente dovete avere un telefono che si può aggiornare a iOS 17. Prima di iniziare però con le differenze, le veloci differenze tra WatchOS 10 e WatchOS 9, vi volevo portare un pochino di accessori, accessori, cinturini che ho acquistato su Amazon. Amazon mi permette di acquistare cinturini veramente a pochi prezzi, perché qua si tratta di 6-7 euro, massimo 10 euro per questi due. Poi, eh, io ho acquistato su Temu, adesso è un po' nella bufera, quindi ovviamente vi sconsiglio di andare a provare ad acquistare su questo sito, o almeno aspettare un attimo per vedere se effettivamente le teorie sono veritiere. Fatto sta che ho acquistato questa maglia milanese, che mi è piaciuta tanto, mi sono piaciute anche tanto queste copie, chiamiamole così, perché sono copie di solo loop cinturini che costano tantissimo su Apple Store, qua invece le ho pagate veramente poco. Ma vabbè, non andate adesso magari ad acquistare su Temu, non si sa mai, e state da parte di chi ha ragione. Però vi dico che questa tipologia di cinturino è sicuramente, dal mio punto di vista, la migliore. Sì, non è tanto elegante, ma è super comoda perché è leggera, elastica, magari si bagna a differenza di un silicone, però è comoda, non fa sudare tanto, è proprio un braccialetto. È un braccialetto che lo va ad alleggerire molto, quello che è poi il mio serie 8. Vi faccio vedere anche un ultimo cinturino che ho acquistato su Amazon, siccome ho visto che nei commenti mi chiedete spesso dove vado ad acquistare i miei accessori, che non presento nei miei video, ecco che ve li faccio vedere. Questo mi piace moltissimo, è di silicone morbido, molto morbido, anche un pochino elastico, molto sportivo, vi dico la verità, sta molto bene. Adesso quasi quasi ve lo faccio vedere, perché mi ricorda un pochino quella che è la Formula 1, non so perché mi dà quella Ferrari, non so perché mi dà questa idea qua, e mi ricorda proprio quest'ambito qua. E vi dico, a me piace, piace proprio tanto così, quasi più del cinturino nero originale, perché va a staccare molto il corpo dal braccialetto e mette in enfasi proprio il case, il corpo di Apple Watch Serie 8. Vi vado a provare anche il cinturino marrone, anzi non marrone, che l'avete già visto, nel video delle 24 ore, vi faccio vedere il cinturino nero. Sicuramente un pochino più elegante, però non so perché, ma su Apple Watch Serie 8, o comunque sugli Apple Watch, mi piace andare a staccare un pochino. Questo è un po' molto elegante. Mentre, e allora ve lo faccio vedere, tanto qua ormai sembra quasi una compravendita, però so che siete interessati ai prodotti che vedete, non tanto, oltre a quelli ovviamente recensiti, anche tutto quello che ci sta attorno. Questo probabilmente è uno dei miei preferiti, e vi marco, vi rievidenzio il fatto che mi piace Apple Watch quando va a staccarsi tra colore del cinturino e colore del case. Qua però andiamo a fare le cose fatte per bene, un confronto molto molto similare, quasi simmetrico, e allora vi attacco il suo cinturino originale, e lo porto qua di fianco al fratello SE. E adesso davvero andiamo a mettere da parte tutto il resto e concentriamoci sul nuovo sistema operativo WatchOS 10. WatchOS 10 è un aggiornamento che va a cambiare, che ha cambiato molto l'esperienza, l'interfaccia e quindi anche l'estetica. Partiamo dai quadranti, abbiamo questo quadrante qua su WatchOS 10, non mi ricordo bene il nome, ma si può andare a modificare, abbiamo una grandissima palette colori ed è molto sicuramente scenografico. Io non amo tantissimo i quadranti analogici, ma sicuramente molto carino. Ho messo questo colore grafite perché così riprende la silhouette e la palette colori del corpo nero. Sempre parlando di quadranti, da una parte abbiamo, vi ricordate, su WatchOS 9, questo movimento qua di swipe laterale che ci permette di cambiare quadrante. Mentre qua su WatchOS 10 il movimento di swipe è stato completamente eliminato. Gli swipe sono rimasti per quel che riguarda il centro notifiche, mentre per i comandi rapidi non abbiamo più questo swipe dal basso verso l'alto come per WatchOS 9. Su WatchOS 10 i comandi rapidi devono essere richiamati con il tasto laterale. Ecco qua. Parlando di comandi rapidi abbiamo una novità, vi faccio vedere subito. Non tanto per quanto riguarda la grafica, ma per quanto riguarda l'interazione grafica con i tasti. Ovvero ora se vado per esempio ad abilitare la modalità aereo, vedete questa animazione. D'altra parte invece vi faccio vedere che non abbiamo questa animazione. Anzi adesso vabbè ci fa fare così addirittura, quindi ecco qua. Non abbiamo l'animazione. Ve lo rifaccio vedere. Animazione da una parte, nessuna animazione. Vi faccio vedere anche per esempio il wifi che qua si attiva, avete visto con le bandelle che si illuminano e qua no. L'avete intravista prima, abbiamo una nuova interfaccia per quel che riguarda i widget. Novità su WatchOS 10 sono proprio questi widget richiamabili facendo un bello swipe verso l'alto o comunque andando a interagire con la digital crown. Vedete basta portarla verso in alto, abbiamo questi widget. Una novità è anche la personalizzazione dei widget. Noi possiamo ottenere premuto un widget e poterlo andare a eliminare o ordinare. Addirittura possiamo andare ad aggiungere i widget che più ci interessano. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Vi dico molto comodi questi widget perché possiamo andare ad avere delle live activities direttamente nel pannello controllo appunto dei widget. Vi faccio un esempio. Ora attivo Siri e gli chiedo di impostare un timer di un minuto. Imposta timer di un minuto. Il timer parte. Noi lo ritroveremo sempre qua sul puntino che viene ad illuminarsi ma lo ritroveremo anche nel pannello dei widget. Vedete? Molto molto interessante questa novità che dall'altra parte vi ripeto non abbiamo la digital crown. può essere soltanto un'interfaccia hardware per andare a lavorare su quadranti di diversa tipologia. Un'altra novità è che su watchOS 9 col doppio tap possiamo andare a richiamare l'applicazione che abbiamo chiuso precedentemente. Mentre con... Grazie. Eccoci qua da una parte e dall'altra. Vedete che ci sono notevoli differenze. Sicuramente da una parte abbiamo uno sfondo che si integra di più. Abbiamo la possibilità di andare anche a visualizzare direttamente da queste iconcine qua sulla destra e sulla sinistra diverse... diversi parametri che riguardano il meteo. Anche qui su watchOS 9 possiamo andare a visualizzare ma l'abbiamo in una modalità diversa. Vedete? Proprio a livello estetico è cambiato molto e secondo me è cambiato anche in meglio, diciamoci la verità. È cambiata anche la parte fitness. Andiamo su quello che riguarda qua gli anelli della parte fitness degli Apple Watch e vedete che la parte introduttiva è più o meno la stessa se non che ritorno sempre queste iconcine che da una parte non ci sono e dall'altra parte invece le ritroviamo. Andiamo a scorrere con la Digital Crown su propri vari anelli movimento, esercizio, in piedi, oggi e l'elenco delle attività di oggi. Da una parte è fatto in questo modo dall'altra parte invece abbiamo un notevole, a mio parere, miglioramento grafico estetico. Novità che troviamo anche nella parte della salute. In particolare è stata integrata finalmente anche se io non l'ho mai usata in quasi nessun orologio la funzionalità di andare a registrare il nostro stato d'animo. Qua sulla parte mindfulness abbiamo una nuova voce, lo stato d'animo. Vedete riflessione e respirazione li troviamo anche su WatchOS 9 ma stato d'animo è una novità. Ci permette di andare a registrare che cosa appunto è il nostro stato d'animo. Possiamo descrivere questo particolare momento oppure andare a descrivere proprio l'intera giornata. Io parlo di questo momento, sono in condizioni neutra, leggermente piacevole, piacevole, molto piacevole o molto spiacevole e spiacevole, leggermente spiacevole. In questo caso sicuramente sono in una fase, una condizione molto piacevole. E allora vedete che sono riuscito ad andare a interagire con una bellissima animazione grafica sui vari stati d'animo e ho scelto quello che più mi riguarda in questo preciso istante. Ci va a chiedere qual è la motivazione di questo nostro stato. Io ne metto due per facilitare la registrazione di questo stato. Attività fisica, cura, hobby, hobby perché ancora non ho reputo un lavoro dato che non ci guadagno niente. E io vado ad inserire questo stato d'animo, sì nel mio Apple Watch ma anche nella mia applicazione. Se riuscirò a tenere traccia, a ricordarmi, poi ovviamente arriva una notifica, ma se riuscirò a tenere traccia, a ricordarmi, quindi selezionare ogni giorno uno stato d'animo o ogni momento uno stato d'animo, allora si creerà un bel elenco, una bella timeline sull'applicazione che si può andare ovviamente a visualizzare quando vogliamo. Ci sono poi altre novità grafiche, per esempio se riceviamo una chiamata. Vi dico la verità, adesso non riesco a chiamare perché sto registrando col mio telefono, ma un piccolo appunto che devo fare è che durante la ricezione di una chiamata vedo il nome del chiamante un pochino piccolino. Vabbè, sempre per la parte chiamata e quindi FaceTime potremo andare a visualizzare eventuali messaggi in segreteria FaceTime direttamente dal Apple Watch, quindi proprio il video del nostro chiamante che non ha ricevuto da parte nostra una risposta direttamente sul display di Apple Watch. Novità che ritroviamo anche sull'applicazione allenamento, in particolare per quel che riguarda il ciclismo, che l'ho già fatto partire qua. Apple Watch è in grado ora di andare a connettersi, a interagire con vari sensori Bluetooth che si possono applicare per esempio sulla pedalata e quindi sulla potenza se vogliamo andare a misurare questo particolare parametro. E' bene sottolineare che anche l'estetica proprio della parte dell'applicazione allenamento è cambiata. E allora se volete vedere un video in dettaglio ho pubblicato sul mio canale proprio il video di una camminata Madonna di Campino dove vado a confrontare questi due soggettini qua. Un'altra applicazione che è cambiata è Mappe che mi è piaciuta tantissimo. Veramente fatta molto bene, molto bella a livello grafico e anche molto reattiva. Da una parte quindi abbiamo la possibilità proprio tramite la Digital Crown di entrare in quelle che sono le varie proposte di layout. Mentre qua la Digital Crown va a interagire con lo zoom in e lo zoom out. Abbiamo poi una diversa proprio concezione delle opzioni che qua troviamo in basso invece qua è proprio interagibile come ho detto precedentemente tramite Digital Crown. Ritroviamo sempre questa caratterizzazione delle iconcine di navigazione sempre sui bordi per ottimizzare al meglio quello che è il display dei nostri Apple Watch. Per quel che riguarda poi batteria e fluidità non è cambiato nulla. La batteria è rimasta sempre quella 30-36 ore di utilizzo stress da una parte e dall'altra forse qua un pochino meno ma il sistema operativo non ha compromesso né fluidità né autonomia. Apple Watch rimane sempre un orologio molto affidabile, molto navigabile con un'ottima user experience e adesso ha anche un'estetica rivoluzionata. E allora invito chiunque ad andare ad aggiornare il proprio Apple Watch per avere la migliore user experience con un'estetica molto più moderna. Io ragazzi vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!